L'emofilia A acquisita è al centro di un corso di formazione che prende il nome di H.A. Simulation Lab che si sta svolgendo qui presso la Humanitas University. Noi ci facciamo spiegare questo corso in cosa consiste e soprattutto quali sono i suoi obiettivi dalla dottoressa Maria Elisa Mancuso del centro trombosi e malattie emorragiche di questo ospedale. Dottoressa Mancuso, ci racconta un po' l'H.A. Simulation Lab, come è organizzato, quali sono i suoi contenuti? Il corso si avvale del Simulation Lab dove i discenti hanno la possibilità di interagire con un caso simulato. Nel caso specifico oggi viene fatto in forma di webinar per l'attuale pandemia, quindi la situazione attuale ci costringe ad avere discenti online e non in presenza. Tuttavia il metodo didattico prevede la simulazione di un vero e proprio caso con noi medici, che facciamo la parte dei medici, è o un manichino o un attore che simula appunto la sintomatologia del paziente. Per cui il caso viene in qualche modo rivisto passo dopo passo dalla parte diagnostica fino ad arrivare alle decisioni terapeutiche, in modo tale da fare in modo che appunto i discenti possano ragionare su quello che è il processo di decisione diagnostica e poi terapeutica attraverso anche degli snodi decisionali. Quindi diciamo che il caso viene esaminato a step e i vari step consentono poi al discente di prendere delle decisioni o comunque di interagire anche con i docenti prendendo delle vie a certi bivi. Sulla base della risposta dei discenti lo caso viene ulteriormente sviluppato e si discutono le scelte che possono essere giuste, sbagliate o comunque alternative e da lì poi viene fuori anche l'atto didattico che poi si completa con delle letture un pochino più formali dove vengono proprio esaminati tutti gli argomenti a partire dalla diagnosi alla terapia alla prognosi di questi pazienti. Quali sono i discenti che partecipano ai corsi? I discenti sono medici delle aree mediche o terapeutiche dove questi pazienti possono in qualche modo essere presenti, quindi internisti. Abbiamo invitato internisti, geriatri, ginecologi. Ci sono sia medici esperti ma anche medici in formazione, quindi anche gli specializzanti che sono nel loro percorso formativo ma che già hanno esperienza di reparto o di pronto soccorso, per esempio medici della medicina d'urgenza o di pronto soccorso, sono stati coinvolti nel corso. Quali sono le competenze più importanti che cercate di trasmettere? Le competenze più importanti sono sicuramente intanto rendere queste persone consapevoli dell'esistenza della patologia, patologia rara ma con appunto un alto impatto prognostico, con un'alta mortalità se non riconosciuta e quindi chiaramente la prima esigenza è quella di fare in modo che i colleghi sappiano che esiste, che può essere una diagnosi differenziale nei pronto soccorsi o nei reparti e poi avere giusto quel minimo di competenza di sapere che esistono dei centri di riferimento a cui loro possono affidarsi per chiedere consigli o per migliorare la loro capacità diagnostica e la competenza di doversi rivolgere a ematologi esperti in coagulazione e avere anche l'idea che nel centro di riferimento esiste anche un supporto di laboratorio che per la diagnosi e la gestione di questa patologia è fondamentale. Dottoressa Mancuso quali sono i primi feedback di questi corsi? Sono positivi? I primi feedback sono molto positivi soprattutto direi dai colleghi che non avevano magari idea dell'esistenza della patologia o che magari ricollegano un'esperienza passata di qualche paziente visto e chiaramente nel momento in cui questo viene corroborato da un'esperienza e comunque da delle informazioni più strutturate rende più chiaro il caso e quindi ovviamente questo fa parte poi del bagaglio culturale che queste persone si portano dietro anche perché l'esperienza del Simulation Lab è molto più impattante dal punto di vista dell'apprendimento e quindi si dimentica meno facilmente di una lezione formale in università.